bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tantissime novità per quello che riguarda i prossimi giorni del nostro fortnight ci sono delle news davvero incredibili parliamo del nuovo shop che sta per arrivare molto probabilmente con la patch 14.40 parliamo di nuovo del fortnight mers rivediamo dar devil ma ci sono delle informazioni per quello che riguarda il winter fest 2020 quindi parliamo addirittura della stagione numero 5 prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si parla di update per la prima volta diciamo dopo più di un anno sembrerebbe che questo questo mese ci saranno due downtime dei server come è successo per la patch 14.30 ed era già stato annunciato in quel momento appunto per il secondo downtime dei server per la 14.40 abbiamo degli aggiornamenti appunto su quest'ultimo aggiornamento è stato ufficialmente dichiarato per nintendo switch questo ci basta per avere la conferma che arriverà entro fine mese e ci sta tutta come cosa perché sappiamo che non era presente nulla riguardante il fortnight mers nella 14.30 quindi ragazzi preparatevi perché probabilmente settimana prossima si aggiorna nuovamente e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono le prime immagini del nuovo shop un piccolo numero di utenti già lo hanno disponibile in game ma è solamente un test diciamo voglio farvi vedere lo spezzone in modo da poterlo commentare insieme come vedete ragazzi il nuovo shop avrà in alto nella testata l'immagine principale delle skin che escono in quel momento e in questo caso stiamo vedendo anche tutte le varie sezioni la prima in alto si chiama featurid la seconda sotto si chiama daily ovviamente non guardate il numero di fianco che è quella appunto giornaliera scendendo abbiamo le spooky offers questo ovviamente è per halloween ma potrebbero essere ad esempio poi per pasqua per natale wraps un'altra sezione come vedete c'è un set completo anche il bundle di daredevil ma lo rivediamo dopo piano piano con calma andando sotto di nuovo limited time che sono in questo caso tutti i bundle che stanno per arrivare davvero molto molto bello molto molto pulito ragazzi il nuovo shop non vedo l'ora di vederlo per tutti e ovviamente come avete già capito ci saranno un sacco di cose in più contemporaneamente andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché proprio lui ragazzi dart devil sta per fare il suo ingresso su fortnite volevo prima che lo vediate in game farvelo vedere io in anteprima ed eccolo qua ragazzi riprendiamo il video lo spezzone di prima del nuovo shop ecco qua il set completo molto bella come skin come vedete due varianti una più chiara una più scura il suo backpack che in realtà non è un backpack ma è una specie di onda sonora di il piccone doppio davvero molto carino tutto ovviamente di colore rosso e il set termina con un deltaplano anche questo diciamo un po restyling di qualcosa che abbiamo già visto ma il set di daredevil davvero molto bello ci auguriamo che arrivi il prima possibile forse addirittura prima della patch 14.40 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla nuovamente del fortnightmers si parla ancora di kevin per tutti quelli nuovi oramai posso dire così che forse non hanno ben chiaro chi sia kevin kevin è quel cubo viola gigante che c'è all'ingresso di foschi fumaioli per tutti invece gli oggi vi ricorderete benissimo che nella season 6 quindi parliamo di un bel po' di tempo fa il cubo ha fatto tutto il giro della mappa poi cadde dentro il lago centrale nella mappa del capitolo 1 e da lì poi si susseguirono una serie di eventi anche collegati al fortnightmers perché ad esempio i come dire quei pezzi di kevin che escono durante il fortnightmer che spolano gli zombie ne fanno parte sembrerebbe ragazzi che stia per arrivare una skin dedicata proprio a kevin in questo evento e potrebbe essere presa da un concept che ha veramente spopolato su reddit come sapete quando delle idee spopolano non è non è raro che il team di fortnight le prenda e le trasformi realmente in skin il set è dr ken and mr vin kevin ovviamente fanno ed è una skin che come vedete potrà essere sostituita durante il game con un emote quindi se utilizziamo dr ken facendo l'emote poi diventa mr vin davvero bella ragazzi e vediamo se per caso sarà quella quella che abbiamo trovato nei file di gioco andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla invece di winterfest 2020 sembra pazzesco parlarne con questo anticipo ma le immagini sono chiare sbam questa ragazzi sembra essere la nuova lobby dedicata al winterfest ma potrebbe anche essere una side lobby vi ricordate l'anno scorso che durante l'evento c'era la capanna del crack shot che ci dava ogni giorno un regalo fino appunto ad arrivare alla vigilia di natale non è escluso che potrebbe essere anche questa una delle location leggermente diversa ovviamente non è una capanna del crack shot ma è qualcosa che abbiamo già visto addobbato a natale vedete sembra una specie di un bunker qualcosa del genere e insieme a quell'immagine è stata trovata anche il background della lobby ed eccolo qua ragazzi qui è dove ci sarà il nostro personaggio principale prima di poter accedere ovviamente al battle royale vero e proprio alle varie modalità di gioco davvero molto bello questo sfondo la neve è la prima cosa che ci salta all'occhio quindi è probabile che la ritroveremo durante il winterfest e poi tanti altri dettagli davvero molto carini insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio alle 8 in live su twitch ciao ciao